Ciao amici, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi c'è la signora mamma. Ciao a tutti. Oggi siamo andati a casa di mamma e papà perché dovevamo risolvere un piccolo problema con la linea telefonica. Poi abbiamo lasciato papà e Mirko a combattere appunto con il servizio telefonico e io e mamma, col servizio telefonico, bastava dire Fastweb, ok? E io e mamma siamo venute da... Teddy, dobbiamo fare, mamma, una challenge. Eh, dobbiamo andare a comprare delle cose per fare la challenge, una challenge segreta. E quindi stiamo andando a comprare tutte cosine, belle belle. E poi sicuramente, a parte le robine della challenge, ma prenderemo anche qualche altra cosa di sfizioso. Dio mio che carine. Queste per i cappellini per la festa dei Papatroll che volevo comprare per il compleanno di Pablo di quest'anno. Invece poi alla fine ho deciso di fare tutto tema safari. Ci sono le cose di Natale. Cioè ragazzi, ci sono già le cose di Natale. Guardate che bella. Questo è un fiocco di neve che io adoro. sull'argento. Questa è la stella di Natale, oro, rosso. Guardate qui tutto il... questo piccolo villaggio da appendere. carinissimo. Mamma mia. Questo è molto fine. Elegante proprio. Molto semplice. Cosa c'è? La casetta. Tutte casine. La chiesa. Questa penso sia la chiesa. Poi l'anticipo con le cose di Natale. Mami però baci. Intanto guardiamo. Mamma che hai visto? Questi. Ha tutto questo set di pennelli. Sì. Per dipingere. Costa 12 euro. Questo ti piaceva a te? Sì. Ma solo questo ti serve? Mi servono pure gli altri. Però questo è un modo particolare. Mamma mia. Mamma, guarda un po'. Tutti questi brillantini. Dove si mettono? Ragazzi sono stupendi. Sull'azzurro, sul blu. Color ambra, verde, acqua, rosa, viola. E questi sono multicolor. Come si possono usare tutti questi brillantini? Perché questi immagino che vanno attaccati, no? Questi sono carinissimi. Questi tutti colorati. Ma tanti li applicano anche sulle cover del telefono. Sì, sì, dipende da uno. Ti fa vedere? Ah, questo. Tutti multicolor. Questi proprio bianchi. Questi sono multicolor. Questi sono quasi colorati. Sì. Mamma mia, che cosa sono questi astucci? No, ragazzi, io c'ho una malattia seria. Cosa vuoi dire? Carinissimi. Questo lo riprendiamo. Tutto rosa. Con l'anguria, i poricini, il diamante, la macchina fotografica. Molto, molto, molto carina. Spiziosa anche per il mare. Non è solo un astuccio. Fai vedere questa scatola. Mamma mia, che meraviglia. Mi fai vedere quanto costa. 9,55, tutta rosa, con i poricini. Molto, molto carina. Aspetta. No, però questa mi piace bene. Fai vedere in sopra. Per nascondere le cose. Sopra, che cos'ha questo tipo? Tipo un libro, no? Sì, no, un libro. E il davanti, che cos'ha? Ah, è una città. Una città. Una città tipo dell'800, perché questa è una carrozza. Non so, carina, però mi piace più con questi barattoli. Mamma mia, che carini. Sono un amore. Solo con questi a casa mia. Qui c'è il micetto. Il micetto del micio. Ah, ma questi sono per il cibo, per i cani. No, carinissimi. Dog food. Mamma mia, con i pesciolini ci giocavo quando ero piccola. Ti ricordi, mamma? Con la canna da pesca. Questo è un gioco che mi piace davvero tanto. Sempre d'estate ci giocavo. Allora, la prossima challenge è mamma, che mi fa una scerpa super mega bellissima, in 5 minuti. Mamma mia, la challenge è così. Sciarpa bellissima per la figlia, in 5 minuti. E il passerottino, mamma mia, guarda che cos'è. Mamma mia. 2,55 euro. Non mi sono anche più grandine. Mi piace molto, la pecorella è molto simpatica. 3,55 euro. Molto simpatica. Stiamo guardando tutto, tranne le cose per la challenge. Io l'altra volta l'ho presa, però è una cosa. Non ho preso, 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 non ho preso. Stiamo guardando tutto, tranne le cose che ci servono. Questa, vedi? Ah, eccole. Allora, siamo tornate a casa, siamo passate dopo Teddy a prendere, a fare un pochino di spesa per stasera, perché rimaneva c'era qui. E non vedo l'ora di farvi vedere tutto quello che ho preso. Ho preso sia delle cose per fare la challenge insieme a mamma, e quelle, vabbè, quelle sono a parte. E poi ho preso anche delle cosine per me e per Pablo. E ve le farò vedere nei prossimi video. Delle cose molto semplici, carine. Ehi, mammi, eccolo lui, attento. Pablo, ti sono mancata. Sono stata via tipo un'ora e mezza. Amore mio, amore. Sì, mi sono mancata, e anche prima è mancato. Io sono stata con la mia mamma. Eh, ci devo stare qualche volta, anch'io, eh. Ok, lui adesso non vuole più scendere. Si è appiccicato a me, perché non mi vede chissà da quanti anni. Amore piccolo mio. Stasera rimaniamo a cena qui. E mamma e papà fanno, abbiamo comprato le pinze. E papà, vabbè, si è data la pazza gioia, perché ha fatto tipo la pinza con, ha preparato il, il preparato con funghi e salsicce. E io però penso che la mangerò normale, mozzarella e pomodoro. E niente, stasera siamo a cena qui. Abbiamo preso anche delle patatine per farle al forno e abbiamo anche i suppli. Allora ragazzi, la pinza era buonissima, le pinze erano buonissime. Le ha fatte papà con pomodoro e mozzarella, prosciutto crudo e funghi e salsiccia, come al solito. E poi avevamo, vabbè, come ve l'ho detto, i suppli e le patatine. Tutto stra buono. E infatti, la prossima volta abbiamo detto, papà, ce le rifai, perché erano troppo, troppo, troppo buone. Io ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Vi chiedo di mettermi un like, iscrivervi al canale e di seguirci sulla nostra pagina Instagram e su TikTok, Lea e Pablo. Io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Dai, salutagli, Gì. Pablo, Pablo. Papà mia, adesso andiamo a casa a fare le ninne. Sì, ninne. Pablo, ciao Gì.